dai che funziona allora ci troviamo qui a Coriano, cuore della Romagna a fare delle boiate siamo al Caratella Day una cosa bellissima, organizzata in sordina da molti amici e ci sono pure il diavolo e l'acqua santa allora questo è il nostro presidente della provincia lo conoscete tutti no? che è il nostro carissimo Vitali e noi lo sosteniamo bravo noi siamo la patria, la Romagna siamo la patria del divertimento noi non dobbiamo imparare niente da nessuno è inutile che l'Europa viene a romperci i coglioni noi sappiamo fare tutto e anche meglio perciò non venite nel nostro giardino a dire voi dall'Europa cosa dobbiamo fare lo scegliamo da soli non vogliamo essere comandati da della gente che non sa neanche sorridere guardate la gente in giro fai una parola amica guarda come sorride guarda 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 fai un giro guarda queste gente questa vieni qua idrocefalo questa questa gente che ha voglia di sorridere perché è ora di finire tutte queste fasce tutte queste fasce tristi e altezzose hai capito? che sembra che se non hai il tablet dell'iPhone 5 non sei nessuno noi siamo romagnoli e vogliamo mantenere la nostra tradizione siamo dei pataca ma andiamo bene così perciò dalla Romagna un saluto digli qualche cosa no i parole semplici i coglioni perché ci ha bagnato e fai vedere come suona il campanello vai 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 ok ragazzi un saluto a tutti noi la gente triste così non la vediamo neanche ai cimiteri il 2 di novembre quando passi c'è la gente che sorride hai capito? anche quelli sulle lapidi sorridono voi al nord voi al sud siete troppo tristi andate a cagare ciao ciao